È iniziata oggi a Teheran la missione d'affari organizzata da Cremona Fiere per la presentazione del sistema agrozootecnico italiano su uno dei mercati più interessanti nel panorama internazionale. Parliamo dell'Iran che dopo quasi 40 anni di embargo e con la fine delle sanzioni economico-finanziarie sta investendo molte risorse per lo sviluppo agricolo e zootecnico. Si parla di 10 miliardi di dollari che il governo ha messo a disposizione per il rilancio del settore. E così oggi nel centro di Teheran si sono dati appuntamento operatori giornalisti agrozootecnici tra i più importanti del paese per approfondire la conoscenza del modello italiano con alcune delle aziende del settore, tutte espositrici delle prossime fiere zootecniche internazionali di Cremona d'ottobre. È infatti Cremona Fiere la capofila di questa missione d'affari confermando il suo ruolo di ambasciatore del Made in Italy per l'agrozootecnia recentemente riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. La missione si concluderà domani con la visita presso grandi e innovativi aziende agrozootecniche nel sud di Teheran per toccare con mano le reali opportunità d'affari per le aziende italiane.